In viaggio verso il Donbass in guerra, alle nostre spalle Dnipro, ecco Mikola Ivka, 10.000 anime tra campi di grano. I pensionati vendono i prodotti dell'orto, non si direbbe che a pochi chilometri tuonano i mortai. Ma anche qui arrivano profughi, come messaggeri. Per loro tutto il paese si rimbocca le maniche. Questa signora è scappata da Bakhmut. Ha appena ricevuto il video della casa dei vicini distrutta. Sono tutti morti, dice. Avevano deciso di restare. Nel teatro comunale si ammucchiano indumenti e si tagliano strisce di stoffa verde per farne teli mimetici. Da una collina lo sguardo spazia su terre generose. Preghiamo che la guerra non arrivi qui, ma se succede siamo pronti a difendere la pace, dice il sindaco. Di nuovo in strada, sempre meno macchine, ma più mezzi militari. La scritta Donetsk ci accoglie in Donbass. Al ridosso del fronte c'è la stazione di Pokrovsk. Troppo grande per un posto così. Nasce infatti per il carbone, un tempo in ricchezza di questa regione. Dmitri è un soldato di Mariupol. Sfoggia tatuaggi che il cremlino non esiterebbe a definire nazisti. Ma lui smentisce. Ho amici in Azov, alcuni sono morti. Ho studiato storia e filosofia. Conosco il pensiero di Umberto Eco e la descrizione che fa dei fascisti. Calza a perfezione con quello che è diventata la Russia di Putin e con quello che le sue truppe stanno facendo qui. Il treno arriva a svuotare queste terre un po' di più. Città morte, come le ha definite il presidente Zelensky. Grazie.